Al quinto posto, abbiamo la KitKan Craft Termometro. Anche il confronto tra le offerte passa dal confronto tra i design molto tecnologici oltre che totalmente digitali e anche quelli totalmente analogici dal gusto un po' antiquato, ma sicuramente molto efficace. Questo vale per questo design autorizzato da KitKan Area Craft, molto user-friendly e anche facile da usare che rivela chiaramente l'intervallo di livello di temperatura, la persistenza se non è esatto al decimo di grado. Così come il tipo equivalente di preparazione del cibo in base al gusto, se insolito, strumento. O ben fatto. Eppure la varietà di solito oscilla tra un minimo di 54 grado C ad un ottimale di 130 grado C. Al numero 4, abbiamo Leifate Termometro Digitale. Avrai capito esattamente come scegliere un buon termostato di carne dipende soprattutto dal tipo di utilizzo che hai intenzione di fare di esso. Le classiche versioni a sonda, da forare direttamente nella carne per un paio di secondi durante la cottura, hanno anche il vantaggio di poter essere utilizzate per varie altre funzioni e quindi vengono anche per essere davvero versatili nella zona cucina. La versione Leifate è creata per essere infilzata nei più alti tagli di carne possibili. Tuttavia ha lo stesso modo per misurare la temperatura di fluidi o semilibri e individua numerose applicazioni in aggiunta in pasticceria, per la preparazione di lozioni e anche torte per esempio. Al terzo posto, abbiamo la Vor Termometro da Cucina. Contrastando il prezzo di questo termostato con quello detto degli altri modelli in classifica, i notevoli risparmi sui costi che si ottengono immediatamente catturano la tua attenzione, è difficile trovare un tale strumento sul mercato a tale ritmo. Indipendentemente dal costo ultracompetitivo, le prestazioni sono adeguate e quindi non è insolito che questo sia tra i progetti di grande successo e anche più apprezzati online. Il termometro trova la temperatura da meno 50 a più 300 grado C in meno di 10 secondi e numerosi clienti la usano non solo per la carne ma allo stesso modo per i fluidi, come esempio per misurare la temperatura dell'acqua del bagno per bambini o del latte. Al numero 2, abbiamo il Omasi Termometro. Questo è un termostato davvero facile, da utilizzare direttamente sul cibo di cui è necessario conoscere il livello di temperatura. Viene posizionato o inserito direttamente in liquidi o solidi e anche in pochi secondi la sonda elabora le informazioni che lo mostrano sul piccolo schermo. È semplice da curare, la sonda ha uno scomparto unico nella gestione e devi solo eliminarlo quando necessario per immergerlo nel composto di cui vuoi conoscere il livello di temperatura. Puoi mettere i tagli di carne più vari all'interno, perché è sottile e in grado di leggere le informazioni direttamente dal sensore situato sul puntatore. Quindi non è necessario spingerlo altrettanto forte. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il Meater Plus Termometro. Non un qualsiasi tipo di termostato, tuttavia, un vero e proprio strumento di intenditore per coloro che amano preparare al meglio la cucina a casa per roast beef e arrosti. Il diametro della sonda è significativo e quindi è bello utilizzarlo solo in tagli di carne più portatili e durevoli, deve anche essere perforato profondamente per individuare le informazioni con precisione. Tecnologia eccezionale prontamente a disposizione dell'acquirente che conta su una precisa scoperta delle informazioni nel cuore del taglio della carne per valutare lo sviluppo della cottura. Funziona inviando un segnale Bluetooth al telefono dove è possibile scaricare la certa applicazione connessa e anche valutare l'avanzamento della preparazione del cibo anche se non ci si trova nell'area circostante. Come sempre, troverete tutti i link dei prodotti che abbiamo discusso in questo video giù nella descrizione qui sotto. Grazie per aver guardato il nostro video, si prega di come e condividere questo video, e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per i video futuri. Grazie. 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 Grazie.